Buon pomeriggio dal TG Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. Esattamente un secolo fa veniva per la prima volta confermata la teoria della relatività generale di Einstein e l'occasione fu un'eclisse di sole. Vediamo perché con Silvia Rosa Brusin. Da cinque secoli non si vedeva un'eclisse così lunga. 29 maggio 1919. Per 6 minuti e 51 secondi la luna oscurò completamente il sole proiettando la sua ombra sulla Terra. Un'eclisse da record e la più famosa della storia della scienza perché quattro anni prima, nel 1915, Albert Einstein aveva messo in subbuglio il mondo della fisica con la sua rivoluzionaria teoria della relatività generale che proprio l'eclissi riuscì a provare, mostrando la luce curvata dalla gravità. Einstein aveva predetto che raggi di luce provenienti da stelle lontane sarebbero stati piegati dalla curva nello spazio-tempo creata da un grande corpo celeste, il Sole appunto. Due spedizioni partirono apposta per dimostrare la teoria dal Brasile e da un'isola dell'Africa, Principe. Le foto del cielo prima dell'eclisse e durante dimostrarono che la luce era curvata come e quanto Einstein aveva calcolato. Da quel momento divenne lui una stella. I giornali di tutto il mondo riportarono la notizia. Einstein non aveva mai dubitato un solo istante di poter avere torto.